Il ristorante Morese è chiaramente lo chef, non poteva che chiamarsi Gaetano Morese. Sì, ho dato il mio nome al ristorante. Poi questo è un casale antico del Settecento, leggevo. Sì, questo era un palazzo baronale dove mio padre e mio nonno hanno lavorato dall'altra parte con una falegnameria per tanti anni e ho avuto la brillante idea, nove anni fa, di aprire questa attività. Cioè di ristrutturare il tutto? Sì, di ristrutturare e faccio un ristorante. Io vedo che il pavimento fa parte di una strada. No, no, questa era la stalla, questo è il basalto che abbiamo rimasto, che caratterizza un attimino... Ancora che è su tre livelli più o meno, uno, due, tre livelli. Sì, sì, noi in effetti abbiamo creato noi, queste erano tutte stanze di servizio del palazzo, tutte chiuse, abbiamo creato i vani. Questa era la stalla, l'abbiamo ripresa, quella era una stanza che serviva, sotto c'era una cantina, serviva da deposito per la cantina. Oggi San Valentino, hai studiato qualche piatto particolare proprio per questo tipo di serata? Sì, 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 abbiamo fatto un menù dedicato, tutti i piatti nuovi che abbiamo messo in carta, abbiamo creato il menù per stasera. Cioè creati apposta per questa sera? Per la porta per questa sera, sì. Io direi di vedere un attimo le immagini dei piatti che tra poco ci passeranno davanti e poi continuiamo a parlare del ristorante Morese. Va benissimo. Cioè, se non è un attimo, non è un attimo. You wanted control, so we waited I put on a show, now I make it Say I'm a kid, my ego is big I don't give a shit And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you All the moves I dig, I've got the moves I dig I've got the moves I dig I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With the moves I dig, I've got the moves I dig I've got the moves I dig Baby, it's hard when you feel like you're broken and scarred Nothing feels right, but when you're with me I'll make you believe that I've got the key So get in the car, we can ride it wherever you want Get inside it and you wanna steer But I'm shifting gears, I'll take it from here And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you All the moves I dig, I've got the moves I dig I've got the moves I dig, I've got the moves I dig I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With the moves I dig, I've got the moves I dig, I've got the moves I dig Move like Jagger You wanna know how to make me smile Take control on me just for the night And if I share my secret you're gonna have to keep it Nobody else can see this So watch and learn, I won't show you twice Head to toe, oh baby, rub me right And if I share my secret, you're gonna have to keep it Nobody else can see this And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves I take I've got the moves I take I've got the moves I take I don't need to try to control you Looking to my eyes and I'll own you with the moves I take I've got the moves I take I've got the moves I take Da quanti anni sei chef? Ho creato questa attività nove anni fa e quindi sono chef patron e diciamo che sono già più di 15 anni che sono nell'attività Ma dove trovi l'entusiasmo, la passione, la voglia di? Sì, il piacere di cucinare e dare piacere agli altri Bisogna venire qui al ristorante emorese I giorni di apertura del ristorante? Allora, noi dal martedì al sabato siamo aperti di sera, la domenica a pranzo Quindi lunedì giorno di chiusura? Giorno di chiusura, sì Per contattarvi, per prenotare un'info line? C'è il sito ristorante emorese.it, c'è la pagina facebook ristorante emorese E stiamo anche su Instagram Quindi vi trovo un'info line, un numero di telefono? 393-3304-997 Benissimo, dove ci troviamo? A Piazza del Galdo, una frazione di Mercato San Severino Facilmente raggiungibile? Sì, sì, stiamo a 3 km dall'uscita dell'autostrada Di San Severino? Di San Severino, sì Perché devono venire qui, in conclusione? Eh, perché si mangia bene Oh, sono assolutamente Ci verrò anch'io Va benissimo Grazie che dà Prego Grazie A rivederci, a rivederci